ben trovati a un nuovo appuntamento con la nostra vetrina dell'auto oggi siamo da gruppo carmeli a san zeno naviglio una delle cinque sedi quindi davvero ci sarà tanto da scoprire perché tantissime sono le promozioni io non sono qui da sola vado subito a presentare salutare i padroni di casa nonché i brand manager per ogni divisione buongiorno a tutti benvenuti sono giacinto nesi sono il brand manager del gruppo buongiorno io sono ivan ballerini sono il brand manager del prodotto dacia buongiorno anche da me io sono massimo brunelli mi occupo di tutto il mondo nissan all'interno del gruppo buongiorno sono paolo ci benini mi occupo di tutto il mondo dell'usato all'interno del gruppo carmeli buongiorno sono federico dirado sono il brand manager dell'outlet multimarca all'interno del gruppo carmeli uno staff davvero ricco ma soprattutto ricco di entusiasmo e voglia di conoscere proprio voi che ci state guardando e siccome gruppo carmeli vi tratta bene e vi coccola io voglio subito svelarvi una piccola sorpresa perché ha riservato un regalo per voi chi acquisterà entro il 31 luglio i primi mille chilometri gli avrà il regalo proprio da gruppo carmeli in buoni carburante quindi mi raccomando non perdete l'occasione rimanete qui incollati perché c'è davvero un mondo da scoprire ben trovati sono gianluca nudi consulente commerciale del gruppo carmeli oggi andremo a presentarvi varie offerte per quanto riguarda il mondo nissan vi ricordo che siamo concessionari ufficiali per la provincia di brescia con le sedi a san zeno e a coccaglio e concesso concessionari ufficiali anche per la provincia di bergamo oggi ci troviamo davanti a forse la più sensazionale delle nostre delle nostre offerte questa splendida nissan kashqai nell'allestimento connecta dove troviamo i cerchi lega diamantati da 18 pollici l'ingresso senza chiave sensori davanti dietro con telecamera posteriori e addirittura su questo modello è presente anche il tetto panoramico che in questa stagione decisamente un accessorio dal quale non si può fare a meno dotata di qualsiasi comfort internamente con addirittura il l'assistenza al superamento della carreggiata una vettura decisamente sicura per la famiglia una vettura con la quale magari affrontare il vostro prossimo viaggio perché no le vacanze imminenti quindi pensate che entro fine mese da un listino di 24.350 potete averla addirittura 21.900 escluso il passaggio di proprietà x-trail allestimento tecna 2177 cavalli 4wd cambio xtronic chilometro zero e a 29.900 più passaggio nissan gtr model year 2019 track in pronta consegna venite a scoprire l'offerta a voi dedicata con la promo gruppo carmeli juke allestimento a 100 1.6 benzina listino 16.250 con promo gruppo carmeli 13.900 euro più passaggio di proprietà nv 200 1.5 dci 90 cavalli 22.760 con promo gruppo carmeli 12.950 più iva e passaggio di proprietà e adesso una nissan micra 1.5 dci 90 cavalli allestimento a centa 20.082 il prezzo di listino con promo gruppo carmeli 15.900 più passaggio di proprietà qashqai allestimento a centa 1.5 dci 115 cavalli 29.178 il prezzo di listino con promo gruppo carmeli 23.800 più passaggio di proprietà nissan juke 1.5 dci 110 cavalli allestimento a centa 16.950 euro con promo gruppo carmeli 14.900 più passaggio di proprietà xtrail 1.6 130 cavalli and connecta xtronic 27.600 euro con promo gruppo carmeli 24.900 più passaggio di proprietà qashqai n motion 1.5 dci 115 cavalli euro 6 di temp da 32.600 euro a 25.900 più passaggio di proprietà nissan micra 1.5 diesel 90 cavalli and connecta 20.982 il prezzo di listino con promo gruppo carmeli 15.900 euro più passaggio di proprietà ricordando che gruppo carmeli è concessionario ufficiale per la provincia di brescia dove ci potete trovare appunto nel sito di san zeno e a coccaglio passiamo ora all'angolo delle delle offerte per quanto riguarda il brand dacia qui abbiamo una è un nuovo duster techrod 1.6 benzina 115 cavalli gpl e da noi lo potete trovare in pronta consegna allestimento techrod si contraddistingue per le barre al tetto dark metal i cerchi lega da 17 e addirittura già di serie troviamo l'ingresso senza chiave le telecamere di parcheggio a 360 gradi la puoi avere con con la promozione gruppo carmeli a 17.900 euro e compreso nell'offerta 5 anni o 100.000 chilometri le estensioni di garanzia e servizi assicurativi nuova sandero techrod blu dci 95 cavalli la puoi avere a 13.900 euro con la promozione gruppo carmeli all'interno le estensioni di garanzia 5 anni o 100.000 chilometri e servizi assicurativi logan allestimento comfort 1.075 cavalli a 11.900 euro con estensioni di garanzia a 5 anni o 100.000 chilometri e servizi assicurativi l'oggi allestimento techrod blu dci ai 115 cavalli 7 posti puoi averla grazie alla promo gruppo carmeli 16.900 euro all'interno estensioni di garanzia a 5 anni o 100.000 chilometri e servizi assicurativi dacia docker techrod blu dci ai 95 cavalli con promo gruppo carmeli 16.500 euro con estensioni di garanzia a 5 anni 100.000 chilometri e servizi assicurativi nuova sandero allestimento comfort blu dci ai 75 cavalli 10.400 euro grazie alla promo gruppo carmeli più passaggi proprietà all'interno 5 anni o 100.000 chilometri di estensioni di garanzia e servizi assicurativi nuovo duster allestimento essenzial 1.500 blu dci ai 115 cavalli a 13.400 euro grazie alla promo gruppo carmeli più passaggi di proprietà all'interno 5 anni o 100.000 chilometri di estensioni di garanzia e servizi assicurativi logan allestimento techrod blu dci ai 95 cavalli 14.850 all'interno estensioni di garanzia 5 anni 100.000 chilometri e servizi assicurativi passando ora al mondo reno dove gruppo carmeli e leader e concessionario ufficiale per la provincia di brescia nelle sedi brescia provincia nelle sedi di san zeno e coccaglio dove tra l'altro potrete trovarmi passiamo ora a scenic auto studiata totalmente per la famiglia dove presenta oltre ai cerchi da 20 pollici l'ingresso senza chiave sensori di parcheggio davanti e dietro con telecamera posteriore già di serie abbiamo franta d'emergenza attiva con riconoscimento del pedone e dell'ostacolo inoltre sensore di avviso della stanchezza un'auto dotata di tutti i comfort una vettura con la quale magari intraprendere le vostre prossime ferie approfittandone entro fine mese la potrete avere da un listino di 29.900 euro scende precipita addirittura a 20.500 euro escluso il passaggio di proprietà con promo gruppo carmeli venite a scoprire la nuova twingo allestimento intense 95 cavalli da un listino di 17.500 euro grazie alla promo gruppo carmeli 14.300 e spas allestimento executive blue dci 160 cavalli cambio automatico da un listino di 46.850 scende grazie alla promo gruppo carmeli a 37.900 caftur allestimento sport edition model year 2019 benzina tce da 130 cavalli 22.375 il prezzo di listino grazie alla promo gruppo carmeli 16.500 grand scenic sport edition 2 blue dci 120 cavalli da un listino di 32.500 scende grazie alla promo gruppo carmeli 24.200 una clio moschino nell'allestimento zen da 20.250 euro scende a 13.500 compreso nell'offerta estensione di garanzia 5 anni 100.000 chilometri e servizi assicurativi e passiamo ora alle offerte dell'outlet gruppo carmeli oltre 2.000 vetture a chilometri zero e aziendali che potete trovare nella provincia di brescia nelle sedi di san zeno e coccaglio e potete anche trovarci venirci a trovare a bergamo qua abbiamo una un alfa romeo stelvio un 2002 turbo diesel 210 cavalli cambio automatico a otto rapporti q4 allestimento executive con cerchi lega da venti pex sport interior sedili sportivi in pelle insomma un'auto unica nel suo genere vettura che da un listino di 64.000 euro pensate con promo gruppo carmeli a 40.900 quindi una vettura ancora un'offerta ancora una volta per una vettura sensazionale dire full optional e dire niente venite a scoprirla fiat 500 1200 s km 0 del 2019 con promo gruppo carmeli 10.750 passiamo ad audi un a3 sportback 30 tdci estronic sport da un listino di 41.500 puoi averla grazie alla promo gruppo carmeli a 27.400 bmw x2 x drive 2000 d quindi quattro ruote motrici pacchetto m sport 56.590 al listino promo gruppo carmeli 37.400 500 x 1120 cavalli s design cross listino 24.759 promo gruppo carmeli 17.400 jeep renegade 1000 allestimento limited 1 km 0 del 2019 con cerchi in lega da 19 led pack schermo touch da 8,4 pollici con navigatore listino 30.300 promo gruppo carmeli 19.900 euro panda cross 900 twin air turbo 4x4 con sedile posteriore sdoppiato da un listino di 20.400 scende grazie alla promo gruppo carmeli a 13.590 ancora audi questa volta una q5 2000 turbo diesel 190 cavalli 4 allestimento s line plus s tronic da un listino di 65.800 grazie alla promo gruppo carmeli 44.400 un chilometri zero del 2019 gruppo carmeli e anche centro dell'usato e tutte le promozioni che andrò a presentarvi questa sera potete trovarle qui nella sede di san zeno io partirei da questa Peugeot 508 station wagon blu hd 120 cavalli nell'allestimento business è stata immatricolata ad aprile 2018 22.700 km pensate la potete avere a 16.700 euro con promo gruppo carmeli opel mocca x 1.400 ecotec 120 cavalli allestimento advance una vettura immatricolata ad aprile del 2018 che ha percorso solamente 9.200 km praticamente nuova dotata di cerchi in lega da 17 navigatore traction control sensori parcheggio anteriore e posteriori apple carplay luci posizione a led grazie alla promozione gruppo carmeli 15.800 euro nissan kashqai 1.500 110 cavalli allestimento n connecta vettura di febbraio 2018 con 32.400 km cerchi lega da 18 navigatore sensori di parcheggio anteriore e posteriore tetto panoramico cruise control 4 telecamere addirittura da un listino con promo gruppo carmeli puoi averla 14.800 euro e dentro fine mese i primi mille chilometri per andare in ferie te li regaliamo noi Audi q2 1.600 turbo diesel 116 cavalli allestimento sport immatricolata a gennaio 2018 51.600 km cerchi in lega volanti in pelle multifunzione cruise control navigatore sensori di parcheggio insomma completa di tutto con promo gruppo carmeli 21.400 e anche per oggi termina qui il tempo a nostra disposizione io ringrazio tutti quanti voi per l'attenzione ringrazio ovviamente lo staff gruppo carmeli mi raccomando non fatevi sfuggire queste occasioni ma soprattutto ricordatevi il regalo che gruppo carmeli ha riservato per voi chi acquisterà entro il 31 luglio avrà in regalo i primi i primi mille chilometri quindi mi raccomando affrettatevi ciao grazie